Ciao ragazzi, mi è appena arrivato un pacco da Yokohama, Giappone. Vado ad aprirlo. Presso singolarmente, quest'articolo è il più costoso della mia collezione, ma farebbe piacere a chiunque legga i manga. Adesso vi faccio vedere di cosa si tratta nello specifico. Sono molto contento. Abbiamo già la carta qui. Ecco qua. Abbiamo anche un bigliettino. Si tratta del volume 3, 4 e 5, 6 di Sonne Jump, dove è presente anche il capitolo Mide di One Piece. È la prima volta che prendo Sonne Jump e sono molto curioso. Secondo me chiunque lega i manga lo vorrebbe leggere. Niente, andiamo a spacchettare questo pacchetto qui, facendo molta attenzione. E' stato molto carino. E' mandato. Questo qui. Vediamo com'è. Un origami, molto carino. Pezzo molto. E qui c'è un messaggio. Bene, andiamo a vedere questi bei due volumetti. Eccoli qui. Ed ecco qui i due volumi di Wakely Sonne Jump che formano un'unica copertina. Mettiamo da parte questo volume e iniziamo con il primo. Lo sfoglio insieme a voi. Qui ci sono tutti i personaggi dal primo all'ultimo, la giornata di Mojiguara. Qui c'è il Jujutsu Kaisen. E tutte le altre serie. Qui invece c'è un poster. E qui inizia il capitolo di One Piece. C'è Yamato e Ace. Si può dire che ho coronato un sogno. Non avevo mai sfogliato Wakely Sonne Jump. Qui ci sono altre serie. E così via. Che ve ne se ne pare. Ci ha voluto solo una settimana dall'ordine per arrivare a casa mia. Da Yokohama. E questo bel pezzo di storia va nella mia collezione. Con il capitolo 1000 di One Piece. Prendo il secondo volume. Qui c'è il capitolo 1000 di One Piece. Qui abbiamo un altro poster. Adesso vi faccio vedere. Molto bello. Che ne dite? Qui. Lo riordiniamo. Con molta cautela. E qui inizia il capitolo 1000 di One Piece. Qui ci sono tutte le altre serie. Jujutsu Kaisen. E qui abbiamo un mini poster di Jintama del film. Qui ci sono tutte le altre serie. Ma la cosa migliore, secondo me, è questo. Shogugeki no Sanji. L'autore di Food Wars ha disegnato una storia per Sanji. Quando ci sono queste cose mi emoziona. Unisce l'autore di Food Wars, uno dei miei preferiti, con One Piece. Adoro molto. Guardate qua che disegni. Vi faccio vedere le altre pagine. E sono molto contento. Finalmente ho tra le mie mani due volumi di We Clish On & Jump. E così si conclude anche questo volume. Questo video dei due volumi di We Clish On & Jump si conclude qui. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!